Mon Barruzzo d'Asti, Asti, un incendio nella notte a Mon Barruzzo d'Asti ha distrutto il tetto e successivamente il fiemile di un cascinale con quattro abitazioni, i vigili del fuoco di Asti, Nizza Monferrato con il gruppo volontari di Canelli sono sono tuttora ancora impegnati per mettere in sicurezza le abitazioni, nessuna persona è rimasta ferita.